Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come eliminare tutti i file cache e il file spazzatura sul nostro sistema operativo quindi in questo caso in questo semplice tutorial ti spiego come velocizzare il sistema eliminando tutti questi file che rallentano il nostro computer quindi in questo caso andiamo un attimo su esegui, facciamo esegui andiamo direttamente a scrivere il comando prefetch, tch prefetch facciamo ok, non si dispone della detezione necessaria, facciamo continua ed eccoli qua ovviamente tutti questi file che vanno eliminati quindi in questo caso facciamo ctrl a e cancelliamo questi file la cartella è vuota e abbiamo cancellato i primi file chiudiamo un attimo qua e andiamo di nuovo a fare esegui quindi sempre su esegui scrivi temp cancelliamo anche i file temporanei che non ci servono facciamo ctrl a e cancelliamo ci fa solamente cancellare quelli che possiamo cancellare e questi due cartelle invece rimangono qua chiudiamo un attimo questa cartella apriamo di nuovo la schedina esegui, questa volta scriviamo %temp% e facciamo ok ed ecco gli altri file immondizia temporanei che non ci servono facciamo ctrl a, evidenziamo tutti i file e cancelliamo se rimangono vari file qua dentro vuol dire che ci sono dei programmi che stanno usando questi file ovviamente se ci sono programmi in background bisogna chiuderli e poi continuare a cancellare questi file per esempio se adesso cancello questi file vediamo se me li fa cancellare faccio ignora, non me li fa cancellare anche se li evidenzio, faccio cancello faccio riprova, non me li fa cancellare perché il file è aperto in OBS Browser Page che sarebbe l'applicazione che sto registrando chiudo qua, faccio di nuovo il tasto Windows più R per aprire così la schedina esegui e vado a scrivere Client M M G R Client M G R seleziona l'unità da polire, polizia, disco per C le cache direct X, fare l'automizzazione recapito, cestino fa il temporaneo e faccio ok eliminazioni, file una volta fatto in alto a destra nella scheda c'è un video su come usare il programma PC Manager che ovviamente ottimizza anche il PC eliminando varie cache come puoi vedere potenzia così le performance del tuo PC faccio boost e elimino anche i file temporanei grazie al PC Manager te l'ho lasciato anche in descrizione per scaricare il programma se questo video ti è stato utilissimo su come eliminare i file temporanei eliminare varie cache e eliminando proprio file spazzatura sul nostro sistema che lo rallenta iscriviti, lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao